Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo martedì avremo ancora un nuovo peggioramento di stampo invernale a causa di aria molto fredda continentale proveniente dalla Russia che porterà un nuovo calo termico. Precipitazioni sparse nevose sino a quote molto basse proprio sul lato Adriatico e al sud. In Abruzzo quindi nuova giornata invernale questo martedì 1 marzo esordio della primavera meteorologica col freddo e con la neve soprattutto in collina con nevicate a tratti abbondanti con accumuli oltre i 5 10 centimetri, qualche fiocco sparso anche sulle coste però comunque fenomeni molto irregolari. Le temperature in netto calo minime molto basse per il periodo valori tra i meno 5 e 1 grado massime contenute tra 1 e 6 gradi. Venti in rinforzo dal nord est. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.